Si chiama Azzi e sembra quasi un'esclamazione, perché poi quando è arrivato effettivamente ha meravigliato un po' tutti, un tiro a giro con il suo destro e il pallone in rete, insomma il migliore esordio non poteva esserci per l'acquisto del mercato invernale. Azzi che era un attaccante fino a poco tempo fa in 6dc e lo era con Attilio Tesser, un altro allenatore ex Rosso Blu che ha capito le capacità di questo calciatore ma ha anche capito che giocando la prima punta non le avrebbe mai espresse. Lo ha messo di lato a giocare sulla fascia ed è diventato il più grande dribblatore della Serie C nel campionato della promozione del Modena. Il Cagliari lo ha preso per spingere sulla fascia, per dare un potere ancora di più a quello che è la fase d'attacco. Lui non è il giocatore che guadagna il fondo per crossare perché sinistro è il secondo piede, è un destro, tant'è vero che predilige crossare col pallone a girare verso la porta e alla ricerca di chi si inserisce nella traiettoria per dare fastidio al portiere. Il rendimento comunque è stato altissimo nella fase offensiva, qualche carenza in fase difensiva come capita a un ex attaccante che il ruolo di difensore lo deve ancora apprendere al meglio ma il contributo non si può certo dire che sia stato un contributo nullo. Per alzi il voto è 8.